Sì, è molto buono, mi chiede che noi abbiamo un po' di due via, anche la prima via del Rincón, ma è buono, è buono, lo sai che il passaggio abbiamo fatto in una posizione corretta e con l'antacana è buono. Quali aspettative di comprare i carci? È molto buono, è buono, guardando che non è stata un'opportunità, siamo a partecipare il 4 di dicembre l'ultimo anno, per non volerci a partecipare, non volerci a partecipare, per comprare un t-shirt per 10 dollari, quindi è buono, 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 è buono. Sì, è buono, 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.